Non è stato facile. All'inizio facevo, mi ricordo l'amore con lei, facevo dieci posizioni in quindici minuti e lei mi diceva ma che cazzo stai a fare la ginnastica? Grazie a tutti. Grazie a te di essere qui, sono onorato. Mi ricordo due anni fa quando ho cominciato a scrivere il podcast, quelle che potevano essere le idee e gli ospiti. Chiaramente c'era Rocco Siffredi tra i desideri e finalmente ci siamo riusciti, quindi ti ringrazio un sacco. Allora, di recente è uscita qualche giorno fa Super Sex, io l'ho vista e l'ho trovata una serie che non mi aspettavo, mi ha destabilizzato perché non sapevo cosa aspettarmi. Ho visto i trailer, immaginavo fosse ingenuamente una serie celebrativa, più diciamo neutra. Invece è una serie molto introspettiva, molto profonda, molto intensa. Mi ricordo proprio dopo la prima puntata c'è avuto anche un bel po' di magone. Ho detto, cazzo qua siamo davanti a qualcosa di potente. Mi fa piacere perché poi è quello che ho sentito un po' in giro, anche gli amici, anche persone che mi conoscono da tantissimi anni. Non mi aspettavo che si trattasse di tutto ciò. Devo dire che veramente mi ha fatto piacere perché anche io all'inizio non mi aspettavo, non sapevo cosa volessero raccontare. Perché poi in realtà la sceneggiatrice Francesca Manieri è una ragazza complessa, bravissima, non brava perché il risultato parla da sé. Diciamo la verità che sarebbe stato troppo scontato raccontare Sifredi che tutti conoscono. Oggi mi fa molto piacere sentire, wow, che roba, che vita, non è stato facile, non immaginavo e tra virgolette anche lascia un po' spiazzati. Quindi voglio dire per me che sono un amante del sesso, della verità, della realtà, questa è una parte che mi mancava. Un po' come quando ho conosciuto la parte dell'essere uomo attraverso una moglie, una famiglia, papà. Ecco, quella parte lì quando ho iniziato a fare questo lavoro non sapevo se un giorno l'avrei mai potuta conoscere, poi l'ho conosciuta. Quindi diciamo che si sta chiudendo un cerchio dove poi alla fine mi sono messa a nudo tantissimi anni fa. Certamente non ho problemi, tanti mi dicono che coraggio. No, secondo me raccontare la propria vita per davvero, senza filtri, è stato sempre quello che mi piace di più. L'ho fatto nel sesso e lo faccio anche nei sentimenti, nell'amore verso la famiglia, nell'amore verso mia madre, nell'amore verso la vita. Chiaro. Sì, sì, assolutamente. Io credo che tra l'altro l'amore sia un po' il fil rouge, più che il sesso. Uno si aspetta il sesso guardando. Invece c'è tutto il percorso che va dall'amore familiare, materno, quello fraterno, fino ad arrivare all'amore per la sessualità, vissuta con una determinata progressione attraverso un percorso senza fare spoiler e poi anche quello, diciamo, l'amore sentimentale. L'ho trovato molto molto bello perché proprio in un certo senso credo sia anche utile, educativo, rispetto a quello che magari è un'immagine, un culto, quella di Rocco Siffredi far vedere tutto ciò che c'è dietro e tutto ciò che ha portato Rocco Siffredi ad essere Rocco Siffredi, nel bene e nel male. Sì, sì, no, ma è importantissimo che si veda tutto. Forse si capisce di più chi è Rocco attraverso la serie perché mi hanno ben, devo dire, rappresentato, ne parlavamo proprio prima, sia col bambino, proprio da bambino, bravissimo, fantastico, sia il Rocco medio, Saul, sia il Rocco medio grande e diciamo anche più grande, il grandissimo Alessandro Borghi. Quindi devo dire che sono stato fortunato a trovare Lorenzo Mieli che è un produttore con triple A, se si può dire, poi Netflix che ci ha creduto veramente perché credimi, quello che stai dicendo tu dello scontato non era difficile cadere nello scontato. Quindi devo dire che mi hanno protetto affinché ne uscisse fuori quella roba che è tutto, c'è tanta sincerità, tutto quello che ho raccontato a Francesca Manieri che venisse tirato fuori e cercare di rimetterlo in vita attraverso questi attori magnifici. Devo dire magnifici perché ci sono personaggi che hanno avuto ruoli un po' meno importanti, però pazzeschi, come l'attore che fa Schicchi, come l'attore che fa Franco Caracciolo, il mio più grande amico di quell'epoca perché non c'è più, l'attore che fa mio cugino Gabriele, cioè voglio dire tutti, adesso me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, però tutti hanno dato il massimo. E come se, e devo dire i registi, i registi pazzeschi, è come se tutto un tratto la sessualità a tutte queste persone qua si sono dette ragazzi buttiamoci dentro e raccontiamola come si deve, usciamo fuori da quel cliché in cui non si può parlare, non si può fare, non si può dire. Almeno su questa parte qui, quello che faremo vedere, facciamolo vedere attraverso l'anima. Cioè io credo che l'uccello lì non serve perché lo vedono, cioè vai su internet e troverai 5.000 scene mie. Non era quello che volevamo, almeno io, poi tutti... Sì sì, credo sia stato corale. Sì, corale. E quindi questa voglia di mettersi in gioco e far vedere anche quell'altra parte lì, anche perché forse ne abbiamo bisogno. Sai, nella vita esiste sempre un momento in cui devi tirar fuori e buttare sul tavolo la carta, scoprirla. Se la scoprivamo, forse qualche anno fa passava inosservata, nonostante tutto. Credo che oggi è un periodo nel mondo un po' particolare. Si sta tornando anche un po' dietro come restrizioni. Io mi ricordo degli anni 90, bellissimi, tutto era uno scoprire di tutto. Io parlo della pornografia e anche della mia vita. E poi internet, poi l'evoluzione di internet. Oggi siamo in un prefuturo, c'è un passaggio fra le varie generazioni e una generazione che ha fatto un salto che sono tre generazioni in una. E quindi c'è tanta confusione. C'è il porno ovunque, piattaforme, ragazze che si buttano, entrano, arrivano, escono. Però confusi. Io uso questa parola. No, no, mi trovi d'accordissimo. Confusi. E quindi questa serie potrebbe anche ridare un attimo di pensiero e dire wow, però, che percorso, però non è stato facile. È vero che all'epoca era molto più dura, però alla fine quando hai dentro di te quella roba lì, non importa, basta continuare, crederci e ce la fai. Poi, non lo so, c'era stata anche un po' di magia, c'era stata come nella serie, e viene identificato il supereroe che, tra virgolette, io lo identifico con l'amore, il supereroe. Ma non perché, perché secondo me la passione e l'amore vanno insieme quando lo fai per qualcuno. Per me la voglia era quella di dare sorriso a mia madre, che aveva sofferto troppo, come hai visto. Quindi qualsiasi mezzo, c'è quel mezzo che mi prende, mi trafigge, che è la sessualità, perché a quell'età, a ognuno di noi arriva, chi meno, chi più, chi forte, però alla fine quel mezzo lì, inconsciamente però, devo dire, l'ho utilizzato per cercare di alleviare un po' di dolore a casa. Questo è tutto. Poi in realtà il sesso è la cosa più bella che avevo dentro di me a quell'età, ma non la capivo, nessuno me la spiegava, e l'ho vissuta un po' da solo, col giornalino, con super sex, perché è tutto vero, tutto parte da super sex. Il titolo non è dire si freddi è il migliore, no, no, è il giornalino. Poi tu ci puoi vedere si freddi che è il migliore, ma parte tutta da quell'immagine del giornalino che è trovo un giorno per strada, mi folgora perché già il titolo ho detto super sex, che roba è, e poi da lì siamo qua. L'epifania, insomma, è stata l'epifania. No, bellissimo il discorso sull'incertezza della nuova generazione anche rispetto alla sessualità. Credo che siamo in mezzo alla terza rivoluzione sessuale, quella prima è finita proprio negli anni 90, no? E è importante anche con tutto il discorso della pornografia di Holyfans che è stato travisato perché io credo, tra l'altro, oggi parlavo della serie con una mia amica che è pornoattrice, si chiama Mimicica e tra l'altro credo sia in una... Mimicica? Sì, sì, sì. Ma la finlandese? Sì, sì, sì. Ah, la conosco benissimo. Sì, e mi diceva com'è la serie, perché lei ha girato anche una scena, quella nel bagno, e gli dicevo è bellissima e secondo me potrebbe essere... Ma non ho capito, Mimicica è la ragazza che fa la scena con Alessandro... Sì, nel bagno, davanti al vater, che poi dopo... Con la testa nel bagno e dai lavater. L'ha fatto Mimicica? Sì. Ma non ci credo, questo è lo spoilerone, ma non ci credo. Perché l'altro giorno, quando ho messo la foto sul red carpet, mi ha scritto e mi ha detto, mai visto nella serie? E io ho detto, non ci ho fatto caso, mi fa The Toilet Scene, vado a rivedere, ed era lei, e con lei parliamo un sacco, perché diciamo io sono nella parte più teorica, lei più nel... Come l'ha presa? Dimmi la verità, come l'ha presa? Perché lei è una ragazza fantastica, ma ha avuto dei step, proprio questi, che ho notato, di un po' altalenanti. Ma ha detto che c'è avuto freddo quel giorno, però se che si è divertita. Già non è male, freddo già non è male, perché io mi ricordo lei, quando la prima volta che l'ho girata era molto timorosa, non come attore, sempre come produttore, molto timorosa, I don't know what I like, quella roba lì. Poi la rivedo e gli piaceva la roba strong. Ho detto, ecco c'è stata l'evoluzione, e poi ha mollato. Si è fermata di fare film, ma non ho mai capito perché. Si era fidanzata con Raul Costa, un attore siciliano, molto molto figo, molto valido, e quindi sono in continua evoluzione. Adesso mi dici che ha fatto quella scena lì, che è la scena emblematica, la scena dove, diciamo, sono diventato famoso, nel bene o nel male, e nel male, scusa, perché ogni tanto mi viene utilizzata come cazzo, bellissima, ogni tanto, ma tu rispetti le donne, e poi li metti la testa nel water. Ecco, c'è un po' questa roba qui ogni tanto. Che poi su questo potremmo aprire un discorso, che l'umiliazione nel sesso c'è un ruolo importantissimo. Ma non è solo questo, non è solo questo. Nessuno mi chiede, è un'idea tua? No, era un'idea? Di sito lì, la ragazza che, in primis, l'ha voluta fare. È stata replicata tre volte, e ogni volta mi è stata chiesta dalla ragazza. E io rispondo, se dobbiamo mettere i sottotitoli, mi dispiace. Però, come dicevi tu, giustamente, la sessualità la si discute, la si fa, la si vive, dopodiché, dal momento in cui ce la siamo detta noi, e abbiamo detto, facciamola, a chi dobbiamo dar conto? Questo è il punto. Però, vabbè, giustamente, dici tu, ci sarebbe da parlare tutto una vita. Sì, no, per esempio, tre giorni fa con un'amica facevamo un discorso sull'umiliazione nel sesso, che per tantissime persone è liberatoria. Ci stanno un sacco di libri che ci attestano, e soprattutto quando siamo persone che devono tenere il controllo, che hanno tante responsabilità. Poi l'umiliazione nel sesso ci lascia liberi. È importante che sia tu a decidere di essere umiliata. Allora, ho umiliato, nel momento in cui viene da te e tu mi dai a me il potere di farlo, io dovevo essere solo bravo a non esagerare, non fare quello che magari non dovrei fare, non lo so, esagerare. Però, voglio dire, è quello che hai detto tu, l'ha detto anche Kelly Stafford nel mio documentario, dicendo, proprio quello che hai detto tu, ha detto, io sono una donna che decido tutto, potere. Quando faccio sesso non voglio pensare a sta roba qua, voglio rilassarmi e voglio che sia tu a farmi di tutto di più. È un meraviglioso scarico di responsabilità e poi in realtà è una cosa super potente perché io metto a disposizione il mio corpo e te faccio un pazzino, quindi è una cosa fighissima e potente anche al contrario. E quindi, sì, ne parlavo con Mimi e dicevo guardala perché secondo me è comunque una serie che parla di pornografia, del vissuto che c'è dietro la pornografia e poi può essere di insegnamento anche alle persone che si approcciano al sex working perché adesso c'è facilità e anche una serie che può un po' risolvere la questione, la dicotomia adesso che c'è rispetto al porno perché una volta si demonizzava perché era esplicito adesso lo si vede come una cosa che necessariamente crea dipendenza. Io la cosa che dico sempre con gli studi scientifici dicono dipende dall'utilizzo che ne fai e soprattutto non deve essere uno strumento educativo per il resto va benissimo cioè è molto matematica e semplice. Che ne pensi? ma sempre pensato così tutto quello che è esagerato e che ti porta a perdere il controllo diventa dipendenza così come quando bevi un bicchiere in più così come quando cioè adesso io non ho mai toccato droghe però posso immaginare quindi dal momento in cui decidi tu è una storia quando decide qualcun altro al posto tuo o qualsiasi cosa è un problema la pornografia può diventarlo perché ti può dissociare sempre di più dalla realtà. l'unica parte che io trovo nella pornografia quando si perde il controllo è che uno perde poi la voglia dell'approccio dell'andarci di persona del parlare quella parte umana un po' se guardi troppo porno e continui a farlo continui a farlo continui a farlo e magari hai una donna va benissimo però se la donna non ce l'hai più oppure sei singolo o al contrario sei una donna poi perdi quel senso dell'approccio ti porta lontano perché è più facile è più facile e quindi un po' però questo succede anche con i social noi attraverso i social non ci mandiamo più non parliamo più ci mandiamo i messaggi c'è tutto diventa freddo poca umanità però questo è un po' un mondo nuovo che dovremmo dire grazie a Zuckerberg che ha iniziato con Facebook inconsapevole sicuramente di creare un mondo nuovo virtuale sempre più virtuale meno umano con tutto quello che ne consegue la gente vive nell'illusione di essere o di diventare oppure nell'approvazione attraverso un like oppure ecco sta roba qui la trovo purtroppo poco umana e che ci allontana ecco perché ti dicevo prima siamo nel prefuturo perché questa generazione qua vive questa sessualità questo modo di essere anche il fatto di far sesso mi dicono come è possibile che tu stai sono 30 anni che sei con tua moglie e ancora stai insieme e fai il porno star perché secondo me anche la tolleranza se ne andà c'è qualcosa che esiste sempre di meno oggi ci stanchiamo velocemente nel momento in cui vediamo che si raffredda qualcosa molliamo come vuoi crescere come vuoi scoprire cosa può far piacere l'altra persona anche migliorarsi nella tematica del sesso se non stai lì e ci provi e cerchi di capire chi è di fronte come fai a alzare l'asticella di quello che puoi proporre quindi è tutta una conseguenza del nuovo mondo che io chiamo prefuturo no mi piace un sacco come termine dell'altro e non mi ricordo chi diceva forse Bonolis diceva in questo periodo invece di riparare le cose prima si riparavano quindi si costruivano si ricostruivano adesso si cambiano chiaro è un po' un po' il riassunto di tutto e tra l'altro il discorso dell'approfondire la conoscenza cercare appunto di costruire di riparare nel momento in cui si sta in una coppia da tanto tempo ci stanno le dinamiche e anche con la sessualità io una cosa che consiglio sempre è rendiamoci conto che a un certo punto non c'è più quell'esplosività quella spontaneità e capiamo che cosa ci attiva che cosa vogliamo fare cioè quasi che uno si mette a tavolino e capisce il proprio e oggi ci attiva cambiare come ha detto il grande Bonolis cambiamo se non funziona cambiamo tante persone dicono abbiamo problemi col sesso apriamo una relazione no perché là succede il casino cioè la relazione va aperta se c'è tutto un discorso e mesi e mesi di diciamo di riflessione ma lo sai perché? perché quando si cercano soluzioni a volte andiamo su quello che è il messaggio che è a volte social a volte di un amico di qualcuno ma no va bene lo fanno tutti è diventato normalità si va nel locale di scambio è pieno e poi trovi le coppie che si menano oppure l'uomo che ti dice vai vai sono coppie aperta e poi quando mette la moglie nella realtà e vede che magari la moglie ha dei gemiti un po' diversi da quelli del solito entrano in crisi quindi è più io non la trovo quella una sorta di esperienza la trovo più esperienza personale che l'uomo vuole fare su se stesso più che di coppia sì 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 e ne ho vissute tante così perché all'epoca ho anche fatto dei film basati proprio sull'incontro con coppie vere ma non c'era internet c'era fermo posta tu eri troppo piccolo mandavo i fermo posta poi mi hanno risposto in una quarantina ho scelto dieci coppie mi ricordo una coppia di Ancona la vado a trovare in hotel e mi ricordo loro con la mascherina perché avevano un bambino piccolo lo lasciano ai genitori mi ricordo come oggi lui grande fan io li filmo comincio a filmarli sono partito con la telecamera da solo comincio a filmarli e vedo che lui è impaziente mi guarda mi guarda non fa nulla mi fa dai vai tu vai tu allora gli dico ok tieni la camera mi raccomando basta che la tieni fai l'inquadratura non ti posso spegnere niente appena entro io e succede è proprio questo cioè che lei cambia volume ma in maniera delicata a un certo punto due minuti tre minuti vedo che la camera comincia a inquadrare altro poi l'appoggia va in finestra e si accende una sigaretta e ho detto scusa un attimo mi sono fermato ma perché non mi riprendi no sono capito che hai capito mi sono sposata proprio una troia e lì ho detto ciao ho detto ma si è impazzito siamo venuti qua a farvi litigare è lei che grida che gli comincia a dare i punti dicendo sei un bastardo e sei stato tu a volermi far questo purtroppo ti dico questo è molto è nell'insicurezza del maschio a volte vogliamo metterci alla prova e fare i trasgressivi poi quando lo facciamo ci pentiamo è molto complessa la mente è un processo da costruire soprattutto devo dire del maschio mediterraneo non voglio dire italiano ma sì sì io pure mi ricordo che circa due tre anni fa ho cominciato a esplorare un po' il mondo magari delle feste esplicite e tutto quanto ed è stata una cosa e sono rimasto folgorato all'inizio ho detto cazzo che bello no? è capitato proprio a livello emotivo e senti questa esplosione di emozione e di libertà però poi è stato un processo molto lungo e anche molto particolare avvicinarmi a quel mondo lì e riuscire a nuotarci in serenità perché poi magari uno va a una festa e vede determinate cose e sente determinate conflittualità però è una cosa che non si può fare dalla mattina alla sera no lo devi fare perché te lo l'hai sperimentato insieme lo volete insieme va fatto tutto questo in due e non ti nascondo che può diventare anche la salvezza dalla coppia può diventare la salvezza può diventare un modo diverso per stare insieme e condividere la sessualità bisogna vedere in partenza tu che valore gli dai al rapporto del sesso di coppia se sei una persona che è possessiva se sei una persona generosa devi vedere un po' questa roba qui però certamente se alle basi non c'è una reale predisposizione di tutte e due a livello di testa non di corpo è utile neanche intraprendere la strada perché ti fai male sì sì assolutamente a proposito della serie e del potere delle dinamiche che dicevamo prima io sono affezionatissimo a una frase che dice tutto nel mondo riguarda il sesso tranne il sesso il sesso riguarda il potere sono d'accordo con te nella serie c'è una frase simile allora quello che hai detto è bellissimo nel senso che nel mondo facciamo tutto per il sesso per essere più belli per essere fighi per piacere però poi quando si va a toccare il tasto ci vergogniamo abbiamo dei problemi guarda basterebbe tu per fare questa prova basta che al posto della serie si proiettava un film porno avresti visto l'imbarazzo incredibile di tutti la pornografia il sesso vero è molto molto complicato perché ci ricorda quell'animale che abbiamo dentro di cui abbiamo bisogno di tirar fuori ma solo l'intimità perché non possiamo condividerlo con tutti questa è la verità se tu riesci a guardare questa parte qui in maniera più diciamo più senza filtri più diretta già cambia la prospettiva veramente dalla vita di quello che è la vergogna di quello che è tante cose i pregiudizi se ne vanno diventi molto più free all the way per quanto riguarda il potere ho sempre detto ho sempre definito che è la più grande forma di perversione perché quando mi dicono oh che perverso lui o l'altro dico c'è la gente si diverte la vera perversione è poter far fare a qualcuno quello che vuoi tu questo è potere ma non è solo nel sesso la prima forma di perversione è come andare sugli altri ma in tutti i modi anche dal adesso faccio degli esempi che non c'entrano niente ma ti danno un'idea quando si dice metti la divisa qualcuno che ha il potere di poterti dire no adesso ti fermo adesso ti faccio adesso ti dico sta godendo te l'assicuro sta godendo che sia uomo o donna sta godendo perché quella è primordiale il potere di avere ma già da bambini io mi ricordo che io prendevo le lucertole in mano cercavo di beccarle e averle da bambino non le mollavo perché dicevo adesso lo decido io se ti lascio libera cioè voglio dire nasciamo noi con quella predisposizione di potere quindi di ci fa godere l'idea di poter avere potere su di te poi c'è chi riesce a gestirla quella roba lì e chi invece fa i danni però la vera forma io dico sempre la più grande forma di perversione si chiama potere concordo concordo e a proposito di questo nella tua storia viene ribadito spesso e volentieri che tu hai cominciato per fatte due pelli no? alla bruzzese alla bruzzese per farti due pelli infatti non si è sentito l'altra sera perché mi sono troppo emozionato ricordandomi mio cugino che non c'è più perché la gente non sa quanto Gabriele fosse presente nei miei trent'anni ultimi di carriera ma anche prima perché io ecco l'anno prossimo saranno quarant'anni lui è arrivato dopo sei mesi quindi più di quasi quarant'anni fa nella mia vita poi ha avuto un attimo di perdita di personalità quindi è andato a fare il fotoreporter di guerra per tre anni poi è tornato e devo dire che era molto molto presente e io ho voluto ricordarlo dicendo se c'era qui Gabriele il grande galet avrebbe detto ah si frema ti rendi conto che può farti due pelli che hai scombinato cioè tu hai capito molto bene certo certo sì sì e questa cosa come si è evoluta dalle due pelli fino poi a diventare Rocco Siffredici questo lo dovresti chiedere a non so a chi perché non è certo partito da me cioè io sono partito veramente per sperimentare per avere più possibilità nella vita di far sesso con più donne non dimentichiamo che a Ortona all'epoca una ragazza eri considerato carino alla seconda attenzione a cussù alla terza cussù no porch e quindi da lì non tradava più nessuno quindi in realtà era molto difficile io andavo a scuola mi ricordo all'Enaip a Pescara facevo tre ore di autobus tre ore nel pomeriggio per andare a trovare una ragazza sperando che mi faceva far qualcosa ma era una lotta le mie strategie non arrivavano al massimo una limonata e poi tornavo a casa tutto bagnato e quello era tutto con dolore nella mia testa però era difficilissimo quindi per me il porno era cazzo finalmente si inizia a vivere una sessualità che ho sempre sognato che fino a quel momento era solo nei giornalini soprattutto super sex o nei cassotti dove facevo a Ortora facevo non è che facevo il bagnino chiudevo aprivo le sdraio gli ombrelloni ogni tanto mi fermavo quando c'era nel pisolino pomeridiano qualche signora che lì partiva la gamba e si vedeva qualche pelo fuori dal costume andavo nel cassotto e mi masturbavo ma tu non sai quante volte ora questa era la mia sessualità arrivo nel porno per me era paradiso non so come te lo immagini il tuo per me era quello là attraverso il 106 come viene ben raccontata nella serie 106 locale di scambisti perché vado nel 106 perché mi dicono che il porno qualche porno star produttore è stato visto in questi locali all'epoca non c'erano i saloni dell'Eros non c'era quella roba lì gli Oscar del porno erano gli Stati Uniti ma gli Stati Uniti chi ci pensava era impossibile quindi tutto nasce parasar come dicono i francesi per caso incontro Pontello lì nel 106 dopo sei mesi che ci andavo e il giorno dopo ero a Montrouge a fare la mia prima scena di sesso ad Amo e Deva realmente così era una scena fotografica e mi ricordo tutta la vita di questa scena pazzesca perché per me era io ero devo dire Saul lì è stato devo dire lì va bene la serie adesso dirò delle cose che non sono molto belle per la serie ma lì era Saul che lo faceva non era Alessandro perché avveniva subito dopo il 106 quindi nel 106 abbiamo avuto questa trasformazione quindi è stato preso Alessandro ma in realtà era ancora il periodo in cui io stavo sognando cioè io ero lì ma non ero lì io pensavo che stavo avviando un sogno il primo momento in cui sono consapevole è quando arrivo a Roma fantastica Moana incontro Moana incontro Schicchi incontro il team dei francesi lì ho detto questo è un lavoro complicato però ce la farò perché hanno cercato di tagliarmi le gambe da subito si vede si vede un po' la parte francese no perché c'era c'erano solo loro erano veramente forti forti super pro e non facevano uscire fuori un ragazzo né dall'Italia né dalla Germania cioè era un gruppo unito che ti faceva fuori anche perché nella produzione se li portavano da un gruppo all'altro cioè chiamavano sempre il stesso gruppo un produttore dove aspettare che loro si liberavano quindi se si formava un altro gruppo d'attori era meno lavoro per loro chiaro chiaro nella serie cioè la serie proprio si apre con la volontà di smettere con il ruolo da attore questa è una cosa che poi si è reiterata durante il tempo si è ripetuta più volte come mai nelle varie volte in cui c'è stata questa idea c'è stata questa necessità inizia tutto con i bambini inizia tutto con i bambini devo dire era già iniziato nella mia testa quando i bambini crescevano però li vedevo piccoli ho detto dai domani domani lo dirò domani lo dirò fino a un giorno mi ricordo quanto il bambino avrà avuto 5-6 anni Leonardo il più piccolo mi disse ma adesso ma non so perché me l'ha detto sta cosa però lui è sempre stato molto attaccato alla mamma è protettore della mamma quindi secondo me ha intuito la sessualità il lavoro che faceva papà ma sempre abbinato alle donne e già a quell'età si è preoccupato della mamma e quindi mi dice tu sexy lo fai solo con mamma vero? per me quello era è stato il più grande shock in 20 anni di porno avere mio figlio che era la parte più bella di tutta la mia vita quando è nato Lorenzo il primo poi si è consolidato col secondo io ero al paradiso finalmente c'è conosco anche quella parte lì che non mi sono mai sognato di conoscere poi arriva sto cazzo Dometto che mi dice oh ma tu che stai a fare lo devi fare solo con mamma non mi andava di deluderlo non mi andava di dirgli cioè a un bambino non gli puoi dire una bugia perché non se lo dimenticherà mai più gli ho detto smetto ma io ho smesso l'ho detto anche a mia moglie e lei mi disse sei sicuro? sicuro? questa era la parte evidentemente mia moglie già aveva intuito che non sarebbe stato facile io ho detto sono sicuro da lì in poi inizia un calvario perché tu giustamente dici prendi e ricominci prendi e ricominci sì perché mi fermavo poi vedevo che non ce la facevo poi ricominciavo poi mi rifermavo però periodo molto brutto chiaro molto difficile chiaro e a livello di rapporto di coppia ci è sempre stata comunque chiaramente vi siete conosciuti sul set quindi questa cosa già ma sul set sì e no mia moglie aveva vinto Miss Ungheria un paio d'anni prima e quindi non era una porno star ok casualità vuole che questa gente che mi portava le porno star la conoscesse aveva una polaroid sua io la vedo attraverso le foto delle ragazze all'epoca venivano presentate attraverso delle polaroid non c'era internet quindi non le vedevi digitali la vedo è un flash non so mai perché ma qualcosa c'è di magico si dice quando il colpo di fulmine ecco io ho avuto il colpo di polaroid perché cioè io ho visto la polaroid e boom ho detto no ma lei chi è e il Nicholas Nichols mi disse no lei no lei no non porno non porno ma chi è Miss Ungheria dimentica facciamoli fare qualcosa portala su io avevo un contratto con Minitel pre-internet non so se se lo conosce era praticamente il pre-internet si chiamava 3615 Rocco su Minitel aveva un produttore francese mi aveva fatto un contratto gli facciamo dare i volantini a Cannes a lei un'altra ragazza arrivano su quindi arrivano a Cannes tutti con tutto tutta la troupe di tutte le ragazze tutto il cast avevamo affittato due ville dovevamo girare un film porno durante il festival di Cannes ed era il remake di Bodyguard Whitney Houston che non è che avevamo una ragazza di coloro c'era una superstar ungherese Betty Gabor molto bella che però non mi arriva non prende l'aereo se ne sbatte le palle non mi risponde al telefono io ero disperato e mi ricordo che il mio partner in produzione mi disse ma perché non lo chiedi a lei è bellissima e io lo guardo e ho detto ma che sei scemo questa non fa porno e poi mi parte questa roba di proviamoci l'ho chiesto a Nicolas poi tradurre lei non parlava nulla non parlava inglese italiano quindi era impossibile dialogare le l'ha chiesto stranamente quei sguardi che insomma ci accumulavano quando sono andato alla stazione centrale che l'ho vista per la prima volta questo suo modo di porsi che mi guarda poi gira la testa quindi gira la testa è come per dire non mi piaci io ho detto non mi ha fatto non mi ha dato l'impressione di ricambiare mi dirà di sì no glielo chiedo quindi non me ne frega niente invece lei mi dice sì ma solo con te e lì boom mi arriva proprio e da lì tutto il resto siamo qua chiaro che è una cosa pazzesca sono diventato bodyguard a vita sempre nel ruolo pazzesco pazzesco allucinante penso sia un esempio di non monogamia che se ne parla tanto adesso come l'avete gestita questa cosa ci sono state delle conflittualità o c'è sempre stata la comprensione quello è il lavoro questo è l'amore no no è molto complessa la storia la parte più forte è venuta da lei perché io all'inizio ero molto io ero molto complesso avevo molta insicurezza ero anche anche molto geloso tra virgolette di lei siamo l'abruzzo ma non solo quello le insicurezze che mi portavano a pensare perché ha scelto me perché ha deciso di stare con me qual è il motivo quindi la battevo anche alla prova quindi devo dire gli ho reso la vita bella complicata all'inizio gli facevo delle scenate la mollavo la lasciavo l'ho rimandata a casa dall'America in in Ungheria ci sono stati molti momenti in cui ma tutto dovuto alla mia insicurezza poi mi ricordo che lei mi disse dammi un bambino e ti mostrerò quanto ti amo in realtà io voglio stare con te non me ne frega niente del tuo nome di quello che rappresenti io a me piaci tu e mi ricordo di questa cosa del bambino lo decidiamo oggi un mese dopo ero incinto nasce Lorenzo e da lì non ci sono stati più dubbi mai più a parte uno che era legato al fatto di 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 ristrutturarci noi come coppia appunto quelle problematiche legate ma sempre quasi da me il problema veniva fatto di torri io stavo sul set tornavo a casa questo poi dovresti chiederlo a lei però tornavo a casa e mi mi vedevo sempre questa donna che mi metteva un po' con gli occhi del tipo sono sempre io o oggi hai fatto un'esperienza che ti porta lontano da me cioè questa roba qui a volte c'era una sorta di c'era un modo di di guardarci prendevamo qualche minuto a volte anche più di qualche minuto per per salutarci prima di 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 rientrare nella normalità non è stato facile all'inizio mi ricordo l'amore con lei facevo 10 posizioni in 15 minuti e lei mi diceva ma che cazzo stai a fare la ginnastica ecco tutto questo è stato un processo che è durato un bel po' e questo mi ha portato in stabilità prima di capire di avere fiducia in quello che realmente voleva cioè io avevo trovato una perla rara tra virgolette ma proprio perché infatti io mia moglie la identifico spesso come purezza mi dicono cosa ti ha attratto a te su quella polaroid il suo sguardo la sua purezza questa questa semplicità bellezza ma vedevi purezza non vedevi l'occhio della ragazza rivista che vuole fare cioè clean pulita adesso tu mi dirai clean pulita com'è che si freddi cerchi al clean pulito si sente sporco può darsi lo sa quindi magari c'era anche un discorso di insicurezza cioè quindi c'era quasi questo di sentirsi perché poi immagino e si racconta anche nella serie tutte le altre relazioni c'erano un tasso di difficoltà proprio legata al lavoro ma guarda quando decidi di fare porno star non è che tu arrivi e ti presenti una tipa c'è un piacere sono un porno star quindi all'epoca oggi oggi col prefuturo le generazioni sono più easy ma si approcciano con più facilità ma all'epoca la mia scelta non era facile no 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 ma io che faccio lavoro nell'ambito sessologico a me certe volte mi dicono quando magari andiamo a letto con una ragazza mi dicono eh però tu chissà che ti aspetta ma che ti aspetta io studio la teoria eh sì ma il problema è quello perché automaticamente si sentono nel senso del giudizio giudicate adesso chissà come mi vede oppure chissà cosa si aspetta oppure mi vede malata oppure semplicemente perché magari uno ha delle richieste per il piacere che voglio dire riguardano ognuno di noi no no è bellissimo questo messaggio di libertà che stiamo trasmettendo rispetto al sesso perché poi è un'espressione individuale molto molto bella e chi andrebbe di parlare se ti va del discorso dell'ipersessualità della della dipendenza che è avvenuta dopo aver smesso ma quella me ne sono accorto dal giorno in cui ho deciso di smettere non lo sapevo di essere sesso dipendente ma io non credo che sono mai stato sesso dipendente prima perché prima facevo sesso per lavoro quindi era semplicemente portare lo status del del mio corpo della mia mente a una performance giornaliera di ore e ore davanti alla telecamera e quindi mi ero abituato avevo abituato la testa il corpo e tutto il resto a quel tipo di attività nel momento in cui tutto è sceso ho cominciato a capire che avevo un problema già quando andavo dal medico perché io andavo dal medico uomo tiravo giù i pantaloni per fare una vista e mi si drizzava l'uccello mia moglie più volte si è messa a ridere io ero in imbarazzo diventavo tutto rosso dottore non è che sono che no non si preoccupi però mi succedeva perché perché meccanicamente ero abituato ad avere 8 ore di erezione al giorno e questo mi si ripeteva con molto imbarazzo però faceva un po' mi faceva un po' strano però alla fine non ne soffrivo più di tanto il problema è quando ho cominciato a perdere il controllo quello che io chiamo dipendenza è proprio la perdita di controllo cioè a un certo punto senza volerlo non mi accorgevo dentro di me ma questo è vero cioè è così la dipendenza è questa dentro di me c'è qualcos'altro qualcun altro che ti dà esattamente un input all'opposto di quello che dovrebbe essere e tu sei debole tu sei completamente passivo come se tu fossi impotente non parli non puoi replicare devi andare dove devi andare non si sa esci e cerca non è non è ho l'amante ho bisogno di fare sesso di qualità no mai cercato il sesso di qualità mai cercato donne belle mai cercato uscivo e quello che trovavo trovavo questa è la dipendenza capisco molto bene perché anche io ho dei tratti ipersessuali e ci stanno dei periodi che è una cosa che sto gestendo tra l'altro di recente ci sono stati dei periodi in cui mi rendevo conto che la sera per me quello era uno sfogo come può essere qualsiasi sostanza da cui si diventa dipendente e mi ritrovavo a fare tutta una serie di cose per poi arrivare a fare sesso che a un certo punto un giorno per caso ho riconosciuto come problematico e da lì ho cominciato attraverso un po' di meditazione quando sentivo quel sesso come una carica interiore che pulsionalmente mi spingeva a fare quella cosa e con la meditazione ho imparato un po' innanzitutto a riconoscere prima ho imparato a riconoscere poi dopo con la meditazione a gestire attraverso questa cosa e va un po' meglio però un pochino di tratti ce li ho anch'io io per me è stato molto complicato perché l'ho avuto molto molto aggressiva poi tornava veniva poi mia moglie mi ricordo che nei periodi in cui ho avuto anche delle problematiche vere attraverso veramente un momento in cui ci siamo seduti abbiamo voluto parlare che vogliamo fare mi ricordo che lei mi disse io non ti ho mai chiesto di smettere se tu sei diventato così perché ti sei allontanato da quello che ami di più torna nel tuo mondo fai quello che sai fare perché lo fai benissimo e torna torna a Rocco che eri prima e questo devo dire che è stato il salto di qualità per me dove ho visto chi avevo sposato chi era la donna che era a fianco a me mi sentivo protetto non mi sentivo più solo poi il gran lavoro l'ho dovuto fare su me stesso perché a un certo punto devi volerti bene se tu non ti vuoi bene di droghi la dipendenza più comune è la droga quando parlavo di dipendenza da sesso alcuni mi dicevano beata a te ti stai alla ventà non capiscono che è complicatissimo quando c'è qualcun altro che ti dice quello che devi fare e non te stesso è lì il problema tutte le dipendenze al mondo a un certo punto se tu non le affronti con l'amore verso te stesso non esci mai via mai fuori io ho avuto anche l'aiuto però da parte di qualcuno da lì su perché devo dire che nei periodi più bui mi ricordo che a un certo punto ci ricasco una volta ci ricasco due volte ci ricasco ancora una volta e mi ricordo che quando uscivo trovavo sempre qualcosa che faceva che quella persona che sono andato a vedere magari l'avevo chiamata non lo so una prostituta quello che sia che cerchi su internet la chiami vengo tra un po' lei non ti apre la porta oppure non ti risponde al telefono e io dico vedi questo è il segnale che te ne devi andare ma ti giuro me ne andavo oppure avevo appena chiuso il telefono rim risquilla scusa avevo un cliente sopra e io dicevo mi sono sbagliato scusa e boom e via cioè sembrava che fino a quando non c'era quell'attimo io stavo per entrare poi però significa che tu non ci volevi andare dall'inizio se no non è che sei ancora lì sotto sali c'era il cliente sali no per me erano segnali vedi Rocco che devi cambiare vedi Rocco che devi cambiare vedi Rocco che devi cambiare fino ad arrivare allo sport non sono andato più neanche a telefonare ho sentito voglia di far qualcosa di 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 nuovo quando questa roba arrivava verso la fine ti farà ridere questo perché dirai adesso tutti cominciano a correre io cominciato a correre da a me la corsa all'infinito la sofferenza mi portava l'endorfina al massimo e dicevo tieni ho goduto non mi so rotto le palle con te ma parlavo con me stesso non con un altro e dicevo ecco in più mi sento figo mi sento figo lì c'è stato lo step che mi ha portato a capire quanto è importante volersi bene quindi hai spostato quella pulsione che sentivi da una cosa all'altra sì ma non è non è facile se tu non sei allora a devi volerti bene per riuscirci b devi riuscire a vedere le persone che ti vogliono veramente bene se si meritano una cosa del genere o realmente se quelle persone hanno un valore reale per te se tu riesci a fare quest'analisi non hai bisogno tra virgolette di nessun aiuto se tu ci riesci da solo perché io non mi vergogno a dirlo forse ne avrei forse se l'avessi fatto prima ma c'era arrivato prima non lo so sono mai stato uno psicologo sessuologo una persona che poteva aiutarmi perché ne parlavo anche con mia moglie mi diceva vai 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 da qualcuno io dicevo che cazzo mi dirà lascia il porno la prima cosa che mi dirà molla il porno è come se tu mi dici smetti di respirare chiaro chiaro io non so sicuro ti avrebbe detto una cosa del genere conoscendo un po' immagino il timore io avevo la paura che mi dicesse tu non so perché io ho sempre visto la sessodipendenza come soluzione stai lontano dal sesso mi sono sempre detto anche spesso in tv vado in tv qualcuno mi accusa mi fa vedi cosa ti ha fatto il porno vedi anche tu stesso dici che sei diventato sessodipendente dicono subito colpa del porno non sono sicuro assolutamente per niente la cosa più importante che mi mi freme a me da questa serie che non venga percepita neanche un po' l'idea che il porno mi abbia creato tutto questo dolore infatti non eh però no no questo invece è una parte che tante volte lo sai che fanno chi per chi perché gli fa comodo chi però sta sofferenza è il porno vedi dove ti ha portato spesso e volentieri a me per raccontare la mia vita mi dicono vedi cosa ti ha fatto la pornografia non capiscono che la pornografia è stata la mia salvezza pochi lo sanno sul set io è l'unico momento dove mi sento me stesso libero a parte voglio dire la famiglia che è arrivata dopo la mia famiglia è arrivata dopo però a parte la mia famiglia è il set io ho difficoltà a vivere non riesco a uscire con la gente non mi diverto facilmente non sono una persona sembro solare divertente e fan ma in realtà ho un'anima molto solitaria si è vista anche sull'isola dei famosi io passo tante ore solo e ti piace e sto bene sto bene sto bene la differenza tra solitude e loneliness che fanno sì sì sto bene sto bene ogni tanto mi piacerebbe anche invidio un po' le persone che riescono a stare insieme e divertirsi sparare stronzate e ridere io non ce la faccio a volte mi faccio due coglioni così succede spesso con gli amici di mia moglie però vabbè andiamo avanti comunque in realtà in realtà no quando lei mi invidava tu sei sempre tu sei sempre sei sempre quello che non si vuole associare cioè sei un associale mi dice in realtà io sono molto suscevole con i personaggi strani a me piacciono le persone strane mi piacciono le porno star che quando arrivano mi dicono colleghi che mi dicono Rocco non la prendere questa qua che è mezza matta a braccia aperte come here baby perché a me piacciono le persone con singolari con una personalità poi al resto ci si diverte con rispetto e con pazienza si trova la strada però il sesso secondo me se non lo fai con persone vere particolari non viene fuori quello che mi piace a me le persone che ti arrivano ti dicono I do this 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 molto flat molto meccaniche per me quello è il porno vero che mi fa schifo a me il porno io tutto quello che è pornografico è finzione per me la pornografia è la finzione tutto il resto è bellezza anche perché poi storicamente tu cresci in un ambiente pornografico che era ancora artistico ma lo è ancora sotto certi punti di vista però c'era il film non il video e questa è una cosa adesso sta un po' tornando la moda delle trame un po' anche modernizzate su quelle che sono anche le serie le serie porno quindi ci si diverte a fare delle cose un po' alternative a quello che può essere vogliamo la biblioteca del porno attraverso internet in cui vai e trovi tutte le categorie chiama le tette chiama il culo chiama i piedi i feticisti bondage è bello perché così uno va diretto dove gli piace fa quello che deve fare ciao però per me io sono un pornografo mi reputo anni ho iniziato negli anni 80 e mi reputo ancora di quel mondo lì di testa cioè non riesco a fare sesso con una donna girare con una donna e dire ok facciamo dei contenuti solo blowjob facciamo dei contenuti solo anno per me ci deve essere tutto un perché può anche iniziare da nudi una scena ma mi devi convincere mi devi devo capire perché lo vuoi fare per questo io perdo tanto tempo a volte mini storie in linea del cazzo che magari non sono super ben recitate o sono recitate in cinque lingue diverse da persone che parlano cinque lingue diverse e cercano di approcciarsi però per me dare l'illusione a chi guarda che quella persona sta interpretando un'altra persona a volte mi piace oppure deve interpretare se stessa ma deve essere particolare deve essere speciale le uniche persone che hanno interpretato loro stesse che mi hanno fatto veramente vivere la pornografia che piace a me la numero uno in assoluto è Kelly Stafford perché Kelly non so se la conosci era un'attrice degli anni 90 inglese che era unpredictable non sapevi mai che combinava era proprio artistica proprio jazz improvvisava chi la conosce mi dice this was the best forever perché anche io che facevo le scene non sapevo che succedeva dopo certo oggi tutto quello che era Kelly Stafford è improponibile perché con tutto quello che è il consent tutto quello il mondo nuovo non si può più fare perché Kelly amava essere sottomessa ma attraverso il non consenso ok cioè lei lo eccitava il fatto di dire mi devi obbligare a fare quello che non mi piace e così io mi eccito e lo faccio questa è una classica perversione sì sì consenso al non consenso che però oggi non può essere più contemplata in un mondo in cui la parola di una donna deve essere no it's no e no it's no è stato posto su tutto e tutti e voglio dire deve essere proprio non c'è più neanche la possibilità di poterlo discutere perché questo tipo di sessualità appartiene alla sessualità e lei ha deciso di smettere mi ricordo che disse dal momento in cui il porno è diventato così non è più non faccio più parte di questo mondo chiaro chiaro no interessantissimo diciamo questa prospettiva più artistica creativa più espressiva della persona dell'attore come se valorizzasse invece di essere una cosa standardizzata che il porno attore scopo e basta la porno attrice scopo e basta c'è anche proprio tutto il lato artistico di tirare fuori guarda io sono diventato Rocco Siffredi poi diciamo la verità io dico sempre c'è una scala una scaletta cazzo un bel ragazzo poi partiamo dall'uccello c'è un bel cazzo un bel ragazzo è alto sa pure parlare più lingue è anche bravo allora tutto questo ti alza e ti mette lì però voglio dire la parte più forte mia è stata sempre la verità di come mi approccio alla sessualità chiunque mi ha visto mi ha sempre riconosciuto il fatto di cazzo tu sembra che lo fai per davvero non per non sembri un attore sembra che non reciti ecco tutta questa parte qua fa parte della sperimentazione di tanti 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 anni sul campo ho avuto la fortuna di poter fare questo come lavoro che se tu vai fuori e propongi la stessa roba già devi trovare le persone che ti dicano ok let's try e poi qui hai la scusa che stiamo facendo un film quindi non c'hai giustificato non ti devi giustificare con nessuno abbiamo deciso in due in quattro in otto di fare questo lo facciamo e questo è il bello della sessualità mia oggi è difficilissimo io oggi da produttore arrivano gli attori le attrici li devo filmare li devo fare il consent list loro si devono dire quello che vuoi quello che non vuoi ma tante di queste ragazze arrivano mi dicono why perché me lo stai chiedendo facciamolo divertiamoci io dico no lo devi dire adesso perché se lui ti fa qualcosa cosa che puoi a te non piace questo può essere un problema e lei mi dice vabbè se me lo fai glielo dico e non lo farà più oggi la nostra legge professionale dei professionisti non te lo lascia più fare tu non puoi essere più distribuito nel porno se non hai il consent list in video e questo credimi toglie tantissima libertà alla sessualità perché la sessualità è istintiva io ho imparato che il sesso tutto costruito non sarà mai vero dirsi tutto per filo e per segno va bene ma dirsi tutto quello che non mi devi fare se tu non l'hai mai provato prima stiamo parlando in professionista una persona seria non un pazzo può togliere a te la possibilità di capire una sessualità che non avevi mai sperimentato fino allora e tu non sai quante ragazze mi dicono sta roba qua mi dicono la più bella scena che ho fatto in vita mia la più bella esperienza sessuale nel consent list avrei detto di no a tutto poi ho trovato questo tipo che mi ha dominato bulversato mi ha fatto delle cose surreali mi ha mandato il cervello a un altro livello io ho vissuto una cosa che non ho mai vissuta prima ecco noi produciamo questo non produciamo fake porn o la sessualità finta ed è qua che io mi trovo molto in difficoltà e chiudo dicendoti che belli gli anni 90 che belli gli anni della sessualità della scoperta oggi si utilizza il porno come educazione sessuale purtroppo ed è questo il problema grave noi siamo entertainment dovremmo fare entertainment per adulti quindi noi tutta la parte consensuale la facciamo prima attraverso le nostre telecamere ma quelle che poi facciamo vedere a voi tutta quella parte lì purtroppo purtroppo la gente non vuole vedere il porno consensuale vuole vedere le cose che non sono attendibili cos'è anche un po' che cazzo ma no ma non ci credo che sto vedendo ecco quella roba lì se è consensuale se io ti chiedo posso farti questo ti piacerebbe tu automaticamente dici ma che cazzo sto a vedere sì sì no che poi succede pure nella realtà ma io lo so che anche nella realtà ma io lo so di persona quello ti dico per me è tutto un mondo che sta cambiando uccidendo uccidendo reprimendo delle cose belle della natura come siamo fatti e come perché per una over protection che giustamente ci sta va benissimo lo capisco però sta diventando un po' troppo secondo me un po' troppo artificioso forse troppo 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 perché a un certo punto io sto vedendo anche delle persone che nella vita di tutti i giorni non porno star non fanno più nulla perché dicono magari questa mi chiede di dargli uno schiaffo e poi mi va a denunciare tra due minuti cioè hai capito allora che me ne frega a me di andare a mettere la mia vita a rischio è la stessa cosa me lo dicono le donne cioè sta diventando molto noioso il rapporto con l'uomo perché li vediamo più svogliati più quindi secondo me bisognerebbe che ci ritrovassimo più che ci allontanassimo cioè per me tutto quello che è il movimento femminista diciamo ha fatto delle cose bellissime tirando fuori dei personaggi che erano dei pezzi di merda per tanti anni ne approfittavano quindi tutto questo è bellissimo ed è giusto ma non deve essere oggi verso l'uomo questo che io veramente vorrei dare come messaggio una punizione eterna secondo me a un certo punto bisogna ritrovarsi perché l'uomo e la donna si devono ritrovare non si possono separare ritrovarsi ricostruire ridare all'uomo un po' di fiducia portandolo per mano magari a cercare di capire di non considerare più la donna come è stato fatto per troppi anni questo deve essere il messaggio ma non vi puniamo per sempre perché così tu sai cosa si incita? l'odio sì 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 è molto è molto diciamo tricky questa questione anche poi delle varie fazioni del femminismo però secondo me possiamo prendere come esempio proprio il sesso il discorso che facevamo prima togliere quella parte artificiosa e ricordarci che il sesso è espressione prima quando mi dicevi delle scene che a un certo punto cambia la cosa mi viene in mente di quante volte durante il sesso non c'è una cosa che uno pensa a priori ma che gli arriva dentro gli arriva nella mente adesso faccio questa cosa ma questa roba si fa insieme guarda che tutto quello che tra virgolette io ho sperimentato con le donne è sempre stato con l'aggancio me lo danno sempre loro sono loro che mi autorizzano attraverso uno sguardo attraverso una vibrazione attraverso una presa c'è sempre questo dialogo continuo senza parlarsi attraverso gli occhi attraverso proprio questa roba qui non è che tu lo fai da solo è impossibile non puoi cioè per me per me una bella scena di sesso tante volte ho fatto delle scene di sesso che sono diventate storiche dal punto di vista anche per dire con produttori o registi come John Stalliano John Leslie Camillion ho girato con delle attrici pazzesche quando si trovava quel feeling ma che ti vuoi dire quello lo crei mano a mano insieme è come se due si mettono insieme e disegnano qualcosa pitturano qualcosa lo fai con i corpi col sudore con le espressioni è un lavoro per quello io ho sempre detto il sesso non il porno il sesso è l'unica forma d'arte che non si può recitare questa è la mia proprio linea chiara dal momento in cui vedo che stai facendo finta io prendo la telecamera l'appoggio e dico vabbè quando ho cominciato a fare qualcosa interessante chiamatemi spesso e volentieri piangono le ragazze con me piangono perché si incazzano perché dicono ma cazzo mi stai inculando da un'ora e tu metti la camera per terra sì però mi state facendo dormire non vedo trasporto non vedo poi a volte piangono e ripartono e sono delle bombe avevano bisogno di quella rottura per uscire fuori da quella routine ma devo dire che questo lo feceva bene anche la Breillard Catherine Breillard l'ho visto fare anche da lei e mi sono detto se lo fa una donna allora non ero troppo malato no no è bella questa cosa del sesso io credo che hai appena trasmesso un messaggio che rompe anche quello che succede quando la gente si educa attraverso il porno che magari arriva a letto con una persona e dice devo fare queste cose che ho visto questo che la società o il parente o la persona della stessa età e dice no il sesso deve essere in questo modo il sesso deve essere una cosa nostra quello è cent'anni fa duemila anni fa ci sono due messaggi lì dentro il primo il primo è chi l'ha detto voglio dire chi l'ha detto come devo godere io come devi godere tu dal momento in cui c'è il rispetto per l'altra persona quei due possono fare quello che gli pare poi c'è un'altra cosa molto negativa nel cinema porno quello che l'unica emozione che deve uscire dal sesso è il godimento chiaro e pulito della scena sai quante scene ho fatto io che so finite l'ultimo viaggio in America due ragazze alla fine della scena piangevano io ho detto che succede piangevano I never felt this kind of sexuality on me cioè io ero allucinato mi abbracciavano non ho mai mai vissuto una sessualità così mi ha fatto vire una cosa nuova sono anni che faccio questo è pazzesco cioè piangere di gioia è anche quello fa parte del sesso andrebbe ripreso pure quello però me lo fanno tagliare fuori perché no no she's crying this is no good è quello che dico io ma perché l'unica emozione durante una scena di sesso deve essere per forza solo il godimento per essere sicuri da avere il consenso da parte del pubblico tutto questo è sesso cioè voglio dire ecco tutta questa parte qua considerare il sesso solo una parte e poi parlando di quello che dicevi prima cosa si fa e cosa non si fa io l'ho sempre limitata a la sessualità è tua e tu hai avuto la possibilità di scoprirla di viverla da ragazzo dovresti averla senza troppe fazioni politiche che ti dicono affatto in un modo o in un altro perché è il momento più bello di quel momento di transizione da quando il sesso ti arriva a quegli anni a seguire è la ricerca di capire chi sei attraverso l'autoerotismo ma ancor di più chi è l'altro essere umano che io scelgo con la quale condividere tutto ciò quindi poter sperimentare con te o con lei o con lui una sessualità capirmi meglio e soprattutto come raggiungere al meglio al top il piacere senza condizionarmi il cervello con chi mi dice da fuori no questo non va bene perché questa roba qua vuol dire che sei gay o vuol dire che sei qua vuol dire che sei là dal momento in cui tu arrivi a capire cosa ti piace quindi sei felice come puoi darmi a me indicazioni o giudizi se quello è sbagliato o no quindi non so io ho una mia visione molto più meravigliosa io penso che questo discorso che appena fatto possa essere molto d'aiuto perché tante persone che provano l'ansia prestazione a letto perché hanno quella visione meccanica io ho fatto questo studio per la mia tesi di Laura che comprende che ha visto che la visione meccanica nel sesso l'attenzione per il proprio corpo e poi i discorsi di regolazione emotiva erano i fattori che influenzavano in assoluto di più l'ansia da prestazione ma lo so faccio leggere tutti i messaggi che ricevo su instagram mi diresti non ci credo la maggior parte sono di ragazzi donne poco e niente qualche ragazza che mi chiede consigli per il fidanzato o qualcuna però soprattutto ragazzi che hanno quest'ansia da prestazione che è strana perché io quando ero ragazzino con gli amici miei il problema era che non ce la davano ma non era non mi tira magari vieni subito quello sì ma io non ho mai sentito in vita mia nell'adolescenza ragazzi che dicevano sono andato e ho fatto cilecca mai secondo me dovremmo riprendere proprio quello spirito lì adolescenziale animalesco speriamo con la serie che li riportiamo dietro secondo me è tanto educativa quella serie secondo me è tanto tanto educativa a me è piaciuta tantissimo e a proposito volevo chiederti secondo me come dicevamo anche un po' prima la serie parla anche tanto di amore sotto tanti punti di vista soprattutto guarda secondo me mi sa se è un mezzo nella serie se tu mi chiedessi qual è la parola ti avrei detto amore solo perché c'è l'amore incondizionato per la mamma l'amore incondizionato per il per il per il half brother come è per il fratellastro quindi c'è c'è l'amore incondizionato secondo me anche verso tra virgolette anche verso Lucia per cercarla di sì sì ma anche verso il porno come salvezza come dicevi ma è chiaro quello è quello è amore a prima vista dal giornalino quindi e infatti ti volevo chiedere che messaggio lasceresti riguardo l'amore anche l'amore di coppia se ne vogliamo prendere uno uomo di 60 anni giusto con tutta l'esperienza qualche gioco tra un mese allora 59 ancora due mesi no no 60 orgoglioso 60enne che messaggio ci daresti sull'amore dei consigli di un uomo che ha vissuto questa vita di riguardare molto di più ecco veramente per me il messaggio unico che dico sempre di ritornare a frequentarci in maniera reale l'umanità di solito vado nel locale e dico buttate sti cazzo di telefonini e scopate cioè per me per me quello è il messaggio più più lo so che è forte perché già lo fanno però in realtà è scopata più con amore più consapevoli di quello che fate perché purtroppo la nuova generazione scopa senza chiedersi né perché né perché lo faccio perché lo fanno tutti ecco questo lo faccio perché lo fanno tutti cercate voi stessi cercate di vedere cosa vi piace per davvero e fatelo fatelo con amore e vogliatevi bene innanzitutto come dicevo a voi per poi aprirvi per tutti questo è un messaggio che secondo me darei assolutamente assolutamente anche perché spesso dicono nella mia generazione ma in generale un po' tutti c'è questa c'è questo momento di confusione spesso dicono è solo sesso ma il solo sesso non esiste e dovremmo fare esperienza delle emozioni che il sesso ci fa io lo potrei dire solo sesso perché l'ho fatto per tantissimissimi anni veramente solo sesso perché poi in realtà è vero che a volte c'è con qualcuna ti viene meglio con qualcuna peggio devi lavorare quando la ragazza non ti piace quel giorno mi dicevo devo lavorare oggi molta fantasia però in realtà inizia e finisce tu inizi e finisci quindi si il giorno dopo ancora cambia cambia ma possono tornare anche le stesse cioè non resta nulla purtroppo mi dispiace dirlo ma non resta nulla però quello è un aspetto lavorativo no ma non solo perché purtroppo devo dirti che quell'aspetto lavorativo è quello che vedo oggi nei giovani di oggi fanno sesso come dicevo poco coinvolti più tanto per farlo e quindi lo fanno finiscono e secondo me è come se si trovassero in un classico film porno senza essere in un film porno lo so che sembra assurdo quello che ti dico no no mi torno però io vedo attraverso le applicazioni mi incontro ciao papà andiamo a scopare andiamo a scopare andiamo a scopare manca la telecamera a volte se la portano hanno il telefonino fanno pure OnlyFans quindi abbiamo stiamo crescendo poi ti dico una cosa molto più importante che ti porterà a capire quello che voglio dirti la pornografia è sempre stata la lo specchio della società dico io ma anche pre specchio cioè ti fa vedere quello che la società diventerà e questo te lo posso garantire io quando ho iniziato negli anni 80 quello che facevamo nel porno quello che facevo fuori cioè io uscivo se trovavo qualcuna che me la dava facevo quella roba lì non facevo quello che è diventato oggi il porno oggi il porno è diventato disconnesso gli attori arrivano sul set le attrici manco si salutano a malapena si dicono ciao buongiorno vanno sul set scopano tu mi dirai ma come si fa come si fa perché c'è una chimica che incontra la chimica e mi fermo qua capirai cosa voglio dire quindi si sono attrezzati alla non sensibilità dell'essere umano si usano i corpi perché dobbiamo fare business noi affittiamo i nostri corpi per fare quello ecco io non sono mai stato un porno star capace di fare quello io guardavo i porno star che facevano a Pigal si esibivano facevano teatro facevano 5 minuti esatti di performance davanti al pubblico a 5 minuti esatti schizzavano io ho detto ma che cazzo è un orologio svizzero è pazzesco io non sarei mai capace prendo lo stesso attore lo porto sul set gli chiedo di cambiare il timing perso non era capace a fare nulla erano abituati a fare quello ecco quello lo facevano gli attori di teatro tutto questo si sta spostando su quello che è la normalità della generazione attuale lo faccio nel porno lo vedo nel porno lo filmo nel porno e mi rendo conto che anche nella vita di tutti i giorni sta diventando così conosci un po' interessante quello che va di moda nel lo chiamano i giovani adesso non mi ricordo il termine però l'avevo visto che usano spesso comunque l'acchiappo e molla c'è una situazione a botte e via si a botte e via che tutti fanno in maniera easy non sto facendo il bacchettore attenzione no no capisco molto bene perché io ho sempre detto che esiste il sesso senza sentimenti se non l'avrei mai potuto fare ma esiste il sesso con i sentimenti che è la cosa più bella che c'è si quantomeno le emozioni coinvolti quello che vedo oggi che tante persone fanno sesso e non sanno neanche loro perché e questa è l'unica questa disconnessione è un po' strana non voglio non mi limito a dire questo la masturbazione a due si la masturbazione a due è tutto qua tutto qui tutto qui tutto qua adesso tu mi dirai di chi è la colpa non lo so non lo so è ancora da capire perché poi anche sulla pornografia in generale ci sono tanti che in maniera facilona dicono è colpa del porno del porno io so che c'è tanta gente nel porno che vive meglio la sessualità grazie al porno oggi che prima durante la mia io mi ricordo che tutti quelli della mia generazione ce ne sono di pipponi che hanno mille pippe mentali perché non hanno capito nulla non hanno potuto sperimentare nulla non hanno mai capito chi avevano di fronte che si sono sposati magari 30 anni con questa donna e non sono riusciti mai a capirli perché hanno sempre avuto il cervello chiuso oggi la nuova generazione da quel lato lì non lo è anzi secondo me la trovo molto meglio infatti io non propongo l'educazione sessuale a scuola perché quella la possono fare loro o noi oramai ragazzi propongo l'educazione sentimentale di solo quella e cioè insegnare una cosa molto importante ma dai bambini dell'asilo secondo me ci stanno dei modelli sesso affettivi dai bambini all'asilo secondo me solo una cosa che nessuno appartiene a nessuno che siamo tutte identità uguali e soprattutto che l'amore eterno esiste solo verso te stesso questa è l'unica mia visione in tutto ciò se tu insegni questo e fai capire questo anche crescere e pensare che una donna ti appartiene perché il problema qual è di io ho una visione mia di tutta sta storia che c'è stata poca educazione sugli uomini soprattutto sul fatto che se una ragazza decide di mollare ha deciso di mollare ha deciso di fare la sua vita non gliela puoi togliere non è che questa donna era tua per sempre o hai firmato un contratto che ti ha detto una cosa del genere il fatto che le ragazze una volta avevano delle difficoltà a prendersi la responsabilità soprattutto il coraggio di mollare oggi sono diventate molto più hanno preso questa consapevolezza quindi spesso e volentieri dicono ciao tu sei matto non mi va mi va di fare un'altra vita non sei la persona che pensavo e l'uomo la reazione qual è? è la reazione di un uomo fragile debole e che diventa sfocia in violenza e spesso e volentieri ammazzano cioè non ho mai visto l'uomo così fragile come questi ultimi dieci anni mai chiaro quindi io ho una mia visione tutto ciò con l'evoluzione della donna secondo me la donna che è uscita fuori ha un po' buttato giù la la self confidence dell'uomo in tutti in tutti i sensi non si è mai non si è mai non si è mai venduto tanto viagra come questi ultimi 15-20 anni tanti uomini che stanno come se l'uomo tutto un tratto ha perso la virilità si si è perso siamo in un periodo di ristrutturazione che va capito e secondo me quello che ci dicevi qualche decina di minuti fa era proprio di avvicinarci di rincontrarci di capirci secondo me è fondamentale cosa più importante se vogliamo salvare il rapporto uomo-donna se no veramente diventerà uomo-uomo donna-donna ciao-ciao rivederci grazie ci sarebbe un po' bruttino decisamente sarebbe un po' bruttino ti volevo chiedere una cosa che faccio sempre qui a facciamolo che è un po' per sfatare il mito della perfezione del sesso eccetera eccetera è un'esperienza buffa imbarazzante ho avuto tante una, due quante vuoi? tante 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 ma tu dici buffe imbarazzanti tipo sfighe anche dentro che ne so a me me ne sono successe tante sul set da un morso che quasi me lo stacca con Alicia Monet perché era perché era purtroppo un'attrice americana degli anni 80 sono stato l'ultimo autore suo perché dopo che si sparsa la voce che me lo stava staccando in Germania mi hanno mandato in ospedale ho tutto l'asciugamano madonna e il dottore mi dice mi ricordo mi disse what's happening io non parlavo manco bene inglese questa era una produzione americana non riuscivamo a capirli come spiegarli c'era un'attrice che me lo stava mordendo quasi staccando questa è stata un'esperienza abbastanza dolorosa imparazzante però una invece più divertente sono i moschito sempre in Germania di Dusendorf quando sono arrivate tutte queste zanzare nere sono facendo una scena a tre due ragazzi e una ragazza a un certo punto arriva sto sciame nero tutti che gridano andate scappate nel furgone io mi sono coperto il viso ho sentito un freddo terribile ho visto che sull'uccello c'avevo 30-40 punture e ti dico per una settimana un dolore dei crateri si erano formati dei crateri ovunque ma ce ne sono state tante situazioni sul set devo dire non è stato facile da tante cose divertenti fan vabbè una vita dedicata a questo comprende anche incidenti di percorso che però devo dirti una volta ho preso un ponte ecco dai ti dico l'ultima con mio cugino Russia San Pietroburgo giro con sette ragazze sulla barca ultimo shooting pioveva ho detto cazzo sta per iniziare a piovere e mi fermo metto tutte le ragazze dentro la barca ho detto ragazze andate andate se non vi bagnate io mi fermo faccio un rewind e guardo sul tape per vedere se avevo beccato l'acqua sulla lente allora mentre guardo 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 a un certo punto non guardo più perché sono per terra sdraiato un lago di sangue e c'avevo una fontanella che buttava sangue dalla testa da una tempia faceva proprio fissa tipo abbattito di cuore però ero perso vedevo tutte persone che venivano fuori così e andavano via non sentivo rumori hai presente quei film dove ti fanno vedere le immagini e non senti il rumore è vero non sentivo il rumore queste gridavano non sentivo ero un pantano di sangue avevo tutta la testa aperta avevo preso un ponte di ferro di quelli tipo perché San Pietroburgo c'ha dei punti tipo Venezia bassi pare pare che chi guidava la barca abbia detto attenzione al ponte solo che l'ha detto il Rus mi ricordo il mio cugino ma porca troia l'ha gridato eh sì l'ha gridato il Rus io ti ringrazio tantissimo Rocco di tutto ciò che hai condiviso secondo me sono usciti messaggi bellissimi come ce ne sono tanti in Supersex veramente grazie grazie manca un ultimo messaggio mi raccomando ragazzi andate a Ortona e fate una petizione chiamate il sindaco di cambiare la scritta quando arrivate a Ortona a Ortona Supersex e viva l'Abruzzo sempre grazie ciao ciao ciao